Grazie a tutti. Il dono della divina volontà dedicato, come chi lo sta seguendo ormai dovrebbe sapere, all'approfondimento di questo grande dono che appunto la vita nel divinvolere, che Gesù ha spiegato nel dettaglio, dopo averlo rivelato nella Sacra Scrittura e fatto vivere in maniera già approfondita nel corso dei due anni di storia della Chiesa dai suoi discepoli. Tirandone fuori tutte quante le conseguenze più belle, più interessanti e più santificanti di questa vita che ci introduce nel mondo stesso di Dio e ci consente di recuperare nella massima forma possibile la condizione e la dignità perduta dopo la colpa di origine. Questa è la cosa più bella del vivere in questo mondo tutto divino. Siamo nella terza parte di questo ciclo di catechesi che è dedicata all'antologia dei barani scelti sul divinvolere. E quest'oggi vedremo un brano assolutamente stupendo, bellissimo e assai edificante, che fa comprendere delle cose davvero grosse collegate a una vita vissuta al 100% in fusione con la divina volontà, e quindi che consenta alla potenza del divinvolere di rispiegare tutti i suoi effetti benefici nell'anima sia di colui che vive in questo mondo che di ciò che in qualunque modo entra a contatto con quest'anima. Sappiamo che il contatto che si può instaurare nel divinvolere, oltre che andare a beneficio delle nostre persone a noi più vicine e quindi ai nostri prossimi, sappiamo che nel Fiat Supremo varca i confini del tempo, dello spazio e della storia, perché in un punto raggiunge, portando effetti benefici, questo non dimentichiamolo mai, di uomini di ogni luogo, di ogni tempo e di ogni lingua. Ecco, quindi vedremo mano a mano che diamo avanti, insomma, in questa rassegna alcune cose molto molto belle collegate alla vita nel divinvolere. Non mi dilungo eccessivamente, perché il brano di oggi è abbastanza lungo, non troppo ma abbastanza, e spero di riuscire a commentarlo, perché ci sono dei passaggi che basta sentirli e poi c'è poco da commentare, insomma. Bisogna soltanto vedere se la nostra fede e soprattutto la grandezza che abbiamo concepito della divina volontà ci rende interiormente persuasi che queste non sono, come dire, modi di parlare iperbolici, insomma, o fantasie, o miraggi, o sogni, ma se si entra realmente nel regno del divinvolere, questo possiamo lecitamente aspettarci, anche se evidentemente non sono quelle che ascolteremo le cose più grandi del vivere nel divinvolere, ma la cosa più grande del vivere nel divinvolere è quella grandissima intimità con Dio che si vive quotidianamente nel cuore ogni giorno e che si raffina quotidianamente di più e che dà all'anima che vive in questo mondo la capacità di tendere speditamente alla santità, di affrontare con gioia, con calma, senza timore, le prove, i problemi, le avversità della vita, di santificare tutto, di santificarsi in tutto, insomma, di trovare veramente, ovviamente, ho citato altre volte, insomma, una frase di un bel film, un bel film, l'ultimo samurai, a me piace molto, anche che si concluse con una frase, insomma, dicendo quello che tutti i uomini cercano e quasi nessuno trova, ecco, quando parla di questo grande, di questo corrotto capitano militare americano, insomma, che si era ritrovato catturato dai samurai e che poi, questo è il film, incontra questo mondo intriso, ecco, di spiritualità quasi, quasi di mistica e poi, insomma, questi vengono sterminati e lui sembra che si sapeva che fine ha fatto e poi il film conclude con lui che ritorna in questo villaggio, ecco, con la voce che dice il capitano, a me piace pensare che sia tornato in quel villaggio dei samurai a ritrovare quel pezzetto di pace che tutti gli uomini cercano e che quasi nessuno trova, no? ecco, nella Divina Volontà c'è questo è molto di più, c'è ben più di un pezzetto di pace, insomma, quindi c'è qualche cosa di veramente bello e grande. Fermo l'introduzione, se no, come al solito, la dilunghiamo un po' troppo e come dice Luisa, metto punto, fermo gli sproloqui e metto punto, la scrive sempre così. andiamo al volume ventesimo, 22 ottobre del 1926 ripeto, il brano è un pochino lungo, non so se conviene leggerlo tutto e riprenderlo oppure fermarsi, adesso vediamo un po' come mi viene, perché è lungo e veramente stupendo ecco, mi avviso uno di quelli più significativi in questa antologia, perché dice cose grosse, insomma, ce ne accorgeremo, insomma, mano a mano che prosegue la lettura. Bene, stavo pensando tra me al santo volere divino e dicevo tra me, ma quale sarà il gran bene di questo regno del Fiat Supremo? Ecco, io confesso pubblicamente che soltanto quando lo sento nominare ultimamente, basta che penso il Fiat Supremo, già mi vengono i brividi, cioè qualche cosa di così immensamente affascinante che solo a nominarlo già uno, capite, va in estasi cosciente, diciamo così, no? E Gesù, come interrompendo il mio pensiero e come in fretta, si è mosso nel mio interno dicendomi Figlia mia, quale sarà il gran bene? Quale sarà il gran bene? Attenzione, il regno del mio Fiat racchiuderà tutti i beni, tutti i miracoli e i portenti più strepitosi. Anzi, li sorpasserà tutti insieme e se miracolo significa dare la vista ad un cieco, raddrizzare uno zoppo, sanare un infermo, risuscitare un morto, eccetera, attenzione, il regno della mia volontà terrà l'alimento preservativo e chiunque entrerà in esso non ci sarà nessun pericolo che possa rimanere cieco, zoppo e infermo. Allora, qui facciamo così, è meglio che ci fermiamo un attimo. Allora, qui Gesù, oltre che ripetere una frase che abbiamo già visto in qualche altro scritto, no? Il regno del mio Fiat racchiuderà tutti i beni, tutti, cioè nessuno escluso, se dice tutti, dice tutti i beni possibili e immaginabili. Tutti i miracoli, tutti, nessuno escluso, possibili e immaginabili. E i portenti più strepitosi. Cominciamo a far, come dire, a far navigare la fantasia, a rievocare tutte quante le gesta dei grandi santi che cosa possono essere inventati. Tutti, non solo, anzi li sorpasserà tutti uniti insieme. Capite? Cioè, quando io sento queste cose penso subito, cioè a me sembra, mi si perdoni questa metafora personalissima, è un po' ardita, cioè che il regno della divina volontà sta a tutto il resto della storia della santità come la Madonna sta nei confronti di tutti i santi. Capite? La Madonna certamente è santa, ma la santità della Madonna da sola vale più della santità di tutti gli altri santi messi insieme. Qui Gesù sta dicendo i beni, i miracoli, i portenti più strepitosi sono in questo regno, anzi li sorpasserà tutti uniti insieme. Capite? È tanta roba! È veramente tanta roba! Allora, qua e qui che cosa dice? Introduce un concetto, questo dobbiamo familiarizzarci, che poi svilupperà nel corso di questo scritto. L'alimento preservativo. Ecco un'altra analogia tra questo mondo e la Madonna, no? Allora, dice Gesù, io per primo e anche tanti santi dietro di me hanno fatto miracoli, cioè c'era uno cieco e io gli ho detto vedi, quello c'aveva la fede e al mio vedi ha ricominciato a vedere. C'era uno zoppo e gli ho detto si sanato, cammina, l'ha fatto anche San Pietro, il primo miracolo che fece San Pietro secondo gli atti degli apostoli, lo storpio seduto alla porta bella del Tempio di Gerusalemme. Quello stava a chiedere le lemosine, San Pietro gli disse non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo dono in nome di Gesù, alzati e cammina. E quella per essere sanzato è accamminato. Risuscitare un morto. Sono scele berrimi, per esempio, penso che tutti più o meno ne abbiamo sentito parlare, le risurrezioni dei morti che fece Sant'Antonio da Padova. Non le ha fatte soltanto Gesù, e anche alcuni santi hanno richiamato la vita i morti, hanno fatto risuscitare i morti, e mica uno solo. Sant'Antonio è il più famoso, ma ce ne sono diversi, attestati in letteratura, quindi conosciuti nel corso della storia della Chiesa. Insomma, risuscitare un morto è tanta roba, no? Cioè, è una cosa da poco. Però attenzione, Gesù dice, nel regno della Divina Volontà, ci sarà un alimento preservativo, cioè chi vive della mia volontà non può diventare cieco, non può rimanere zoppo, e non può rimanere infermo. Attenzione, infermo, cioè, queste cose, ecco perché ci riallacciamo alla condizione delle origini, cioè, l'immunità dalle malattie, per esempio, era una condizione tipica di Adamo e di Eva, era un, secondo la dottrina della Chiesa, questa dottrina autentica della Chiesa, era, faceva parte dei cosiddetti doni preternaturali, l'immunità dalle malattie, cioè, un dono che Adamo avrebbe conservato se si fosse mantenuto nello stato di giustizia originale, non è un dono strettamente attinente all'essere creaturale, ma era un regalo che il Signore gli faceva e che sarebbe rimasta a condizione che si fosse mantenuto nello stato di giustizia originale. Persa la giustizia originale, perso il dono. Quindi, cioè, capite che significa le malattie, perché non possono avere potere? Perché la malattia è, come tutti quanti sappiamo, è conseguenza del peccato originale, cioè la malattia è scatenata dal peccato originale e dai nostri peccati, cioè, ogni male, anche questa è dottrina della Chiesa, dobbiamo sempre ricordarlo, tutte le forme e le specie di male esistenti, sono conseguenza del peccato, tutte sono esclusa. Questa è la dottrina cattolica, cioè uno è liberissimo di non crederci, ma se ci crede è fuori della comunione con la Chiesa, capite? Io spero che noi ci crediamo a queste cose qui, eh. Allora, che succede? Che cosa è il peccato? Il peccato è uscire dalla divina volontà in maniera seria, d'accordo? Non una piccolissima, un piccolissimo incidente di percorso, che è una piccolissima deviazione, prendo una sbandata e riprendo subito la macchina. No, no, il peccato è andare fuori strada e sfracellarsi contro il muro, d'accordo? Non è una piccola sbandatina. E questo produce il patatrac, il male. Ma se tu non soltanto smetti di peccare, ma ritrovi anche l'unione e la fusione con la divina volontà, sei uno con lei, il male non ci può entrare. Cioè, se uno ci pensa, è evidentissimo. Scusate, Dio è vulnerabile? Possiamo dire che Dio è vulnerabile, che Dio gli può venire a freddore? Per dire, insomma, no? No! Ma se io trovo la fusione profonda con la divina volontà, cioè, questa cosa che a noi ci lascia bocca aperta, e lascia bocca aperta anche a me, insomma, cioè, io rimango incantato leggendo queste cose, e come dire, intellettualmente, mentalmente, si capisce essere una cosa non solo possibile, ma logica, d'accordo? O, e per quanto riguarda la morte, Gesù prosegue. La morte nell'anima non avrà più potere. La morte nell'anima. Cos'è la morte nell'anima? Come si chiama? Catechismo? Il peccato mortale. Quindi l'anima non potrà più morire. Perché non peccherà più mortalmente? Attenzione! E il corpo muore? Sì, il corpo muore. Su questo, ecco perché dobbiamo sempre ricordare che nel FIAT santificante si ripristina la condizione che aveva nei nostri progenitori, ma non esattamente tale e quale identica così com'era in tutto e per tutto. D'accordo? Questo lo si avrà con il compimento dell'opera della redenzione definitiva che sarà nella vita del mondo che verrà con la resurrezione della carne e con tutto quello che sarà. Certamente però si arriverà molto oltre rispetto a beneficiare semplicemente che è già tantissimo di tutti quanti i mezzi e gli strumenti del FIAT redimente quindi dei sacramenti della preghiera dell'ascetica eccetera eccetera la morte nell'anima non avrà più potere e se l'avrà sul corpo non sarà morte ma passaggio cioè la morte di un figlio che deve involere voi sapete la morte è una cosa brutta non soltanto perché si deve lasciare questo mondo ma perché la morte è vissuta come un travaglio come un'esperienza dolorosa tant'è vero che c'è l'agonia prima della morte io non lo so com'è perché non sono morto mai non ho mai visto in diretto una persona morire è un'esperienza che manca nella mia esistenza non mi è mai successo però sappiamo tutti quanti insomma sulla base della tante cose che la morte è un'esperienza drammatica voi sapete che quando si fu il dogma dell'assunta in cielo c'erano due scuole teologiche che si fronteggiavano dicono la Madonna è morta o non è morta su questo ancora ognuno è libero di pensare quello che vuole perché Pio XII volutamente ha semplicemente definito il fatto dell'assunzione non risolta questa diatriba io personalmente penso che non sia morta d'accordo ma in ogni caso non si può pensare che la Madonna sia morta come vogliono le altre persone questo è sicuro cioè come separazione violenta dell'anima dal corpo quindi innaturale con questa agonia che produce questa rottura perché la nostra anima è stata fatta per essere unita con il nostro corpo cioè noi oggi non abbiamo più un senso santo della corporeità noi idolatriamo il corpo e si passa dall'idolatria del corpo a delle forme come dire di disprezzo totale che non ha niente a che fare con il cristianesimo del corpo simili dagli ambienti insomma ultra platonici o spiritualisti insomma noi abbiamo come dire una perfetta come dire dottrina antropologica cioè l'anima sant'omaso dice la forma del corpo cioè la nostra anima è stata fatta per essere uno con il corpo di cui è forma cioè anche se è spirituale e anche se dopo morti dopo che la carne purtroppo paga il debito e il peccato originale va alla corruzione l'anima ha un principio di immortalità in quanto sostanza spirituale non può morire e quindi diciamo ha una forma di sussistenza protempore simile a quella dei puri spiriti cioè le anime senza corpo come dice Gesù anche nel Vangelo sono simili agli angeli sono però per un uomo questa è una condizione naturale perché io adesso mi sto io mi tocco le mani cioè sto sto parlando attraverso le corde vocali e chi mi sta ascoltando sta ascoltando attraverso la radio quindi sente i suoni delle voci questa è fisica non è cioè gli angeli comunicano tra loro attraverso locuzione intellettuale comunicano in silenzio non comunicano chiacchierando capite cioè noi siamo così allora quindi Gesù cosa dice si passerai per la morte ma questa morte non sarà un travaglio sarà un passaggio e attenzione che cos'altro potrebbe succedere ancora non sarà morte ma passaggio e mancando l'alimento della colpa perché i peccati mortali non si fanno più nella dinna volontà non si fanno ma proprio non si fanno non si fanno non si fanno neanche neanche i peccati volontari in senso stretto cosa che del resto la diceva già San Giovanni evangelista chiunque è nato da Dio non pecca se volete mi è dato un istante trovo subito la citazione precisa così si può andare a controllare da Dio non pecca vi dico esattamente proprio il versetto dove lo si trova è la prima lettera di Giovanni capitolo 5 versetto 18 sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca chi è nato da Dio preserva se stesso e il marino non lo tocca altro che divina volontà questa è la prima lettera di San Giovanni evangelista capite 2000 anni prima di questo di questo scritto vedete come tutto è già contenuto nella sagra scrittura dice eh muoviesti a Dio muovii non si fanno più i peccati cioè il peccato in senso stretto che cosa intende qui San Giovanni voi sapete che il peccato in senso stretto sia che sia veniale sia che sia mortale sia peccato in senso stretto quando l'altro è volontario cioè il peccato non è in senso stretto il peccato semideliberato capite quindi la debolezza quella cosa che ti scappa in un momento mi sono distratto nella preghiera e faccio una strafaccione e pronuncio male una parola e non lo so mi distraggo un attimo un pensiero balordo insomma mi sfiora un pochino e mi cefermo un istante insomma questi non sono sì certamente non sono cose che vanno confessate ma sono cose piccole ma un peccato in senso stretto cioè io so che una cosa Dio non la vuole la faccio se la faccio non sto nel regno della Dina Volontà se sto nel regno della Dina Volontà non la faccio ma nemmeno morto capite ecco quindi questo è il è il discorso quindi e attenzione qui non è che non si pecca come molti che pensano di non avere peccati perché non hanno la coscienza morale formata cioè le persone che per esempio hanno difficoltà nella confessione e che quando dice ma io che peccati ho fatto non ammazzo non rubo non ho fatto niente di male questo non è quello di cui parla San Giovanni né quello di cui si parla qui questa è una coscienza rozza rudimentale che ha bisogno di essere formata e deve sentire le catechesi sui dieci comandamenti per cominciare a rifocalizzare quello che è successo nella vita ma qui si parla di una coscienza retta formata quindi che conosce il bene e il male e che col male ci ha chiuso allora ripeto la morte dell'anima non avrà più potere sto rileggendo e se l'avrà sul corpo non sarà morte ma passaggio e mancando l'alimento della colpa e la volontà umana degradata attenzione che produsse la corruzione nei corpi altro passaggio la corruzione dei corpi di questo nostro corpo purtroppo da che cosa è prodotta? dalla volontà umana degradata per cui fanno tanto ridere figlioli miei cari quelle persone che molto si preoccupano di come dire tenere in forma sottolifting in fitness in chirurgia estetica e altre diavolerie del genere della carcassa del corpo come dire semplicemente ingannando la vecchiaia d'accordo? è solo questione di tempo capite? e ben poco si preoccupano di sistemare la volontà umana degradata che è la causa sia della morte sia dell'invecchiamento sia delle brutture delle deformazioni è tutto questo attenzione a capire bene quello che sto dicendo attenzione quando si parla di volontà umana degradata e di brutture non bisogna pensare che un poveretto che sia come dire storpio chi lo sa che ha fatto pensiero embrionale condannato da Gesù nel Vangelo quando gli parlano del cieco nato dice chi ha peccato lui e i suoi genitori per essere così non fate questi ragionamenti cioè non è che la singola malattia o la singola infermità o deformità è imputabile con certezza a qualche peccato commesso dal diretto interessato questo è un fatto come dire ontologico generale cioè il male fisico spirituale psichico ha la sua origine dalla mole di peccato prodotto dalla volontà umana dell'uomo che si produce e non è affatto detto che una deformazione fisica di un poveraccio dipende dai peccati di suo chi lo sa da che cosa dipende d'accordo queste sono cose che non si possono conoscere in questo mondo possiamo semplicemente però conoscere la verità cioè i nessi i grandi nessi di causa questo si così come sappiamo con certezza che la morte fisica è conseguenza diretta del peccato originale libro della sapienza 2.24 la morte entrata nel mondo per invidia del diavolo quello che dice Dio dopo il peccato di Adamo tu sei polvere in polvere ritornerai quindi che ci sia questa causalità immediata tra morte del peccato originale questo è certo questo è un dato rivelato ecco quindi la corruzione dei corpi è prodotto dalla volontà umana degradata attenzione rileggo di nuovo tutto quanto il periodo perché sono singoli passaggi che sono altamente istruttivi cioè si vede come questa dottrina è proprio radicata nella dottrina di Santa Madre Chiesa quindi la morte dell'anima non avrà più potere se l'avrà sul corpo non sarà morte ma passaggio e mancando l'alimento della colpa e la volontà umana degradata che produsse la corruzione nei corpi attenzione stando l'alimento preservativo di nuovo questo termine della mia volontà la divina volontà preserva dalla corruzione allora che succede che i corpi non saranno soggetti a scomporsi e a corrompersi così orribilmente da incutere paure anche ai più forti come lo è tuttora ma rimarranno composti nei loro sepolcri aspettando il giorno della risurrezione di tutti ci stiamo rendendo conto di quello che dice qui cioè se una persona è veramente entrata nel regno della divina volontà ha in sé quest'alimento preservativo il corpo passa per la morte ma non in maniera travagliata ma come passaggio sereno e dal momento che in sé non c'è il principio della corruzione che è la volontà umana degradata perché la persona ha smesso di fare il male allora non è detto che tutti saranno assolutamente totalmente incorrotti non c'è proprio scritto così dice che non saranno soggetti a scomporsi e a corrompersi così orribilmente quindi se anche ci sarà un pochino come dire di decomposizione io per esempio penso al corpo di padre Pio padre Pio non lo so se è vissuto nel regno del divino volere se conosceva proprio esplicitamente questo dono io non lo so affermare con certezza però sappiamo che non è proprio del tutto incorrotto però è rimasto abbastanza composto ci sono già stati altri santi che hanno avuto il dono dell'incorruzione per certo si sa che era Santa Bernadette su Birù lo so per Santa Caterina da Bologna un'altra e se non ricordo male anche San Giovanni XXIII il corpo è rimasto incorrotto quindi queste forme di incorruzione precedenti il regno della divina volontà sono delle grazie straordinarie che il Signore ha fatto chi lo sa come mai e perché a uno si e a un altro no io a questa domanda non so rispondere ma sappiamo che questo è un fatto attestato nella storia della Chiesa ci sono dei corpi che non si sono corrotti ora Gesù qui dice se uno è vissuto nella divina volontà o non si corrompe per niente come questi grandi santi o se si dovesse un po' decomporre non certamente in maniera orribile e tale da incutere paura come è adesso ma sempre mantenendo come dire una certa compostezza pur nel processo di decomposizione questo lo dice aspettando il giorno della risurrezione voi capite che indirettamente qui non voglio aprire questo argomento perché non è come dire attinente consono con questa catechesi però capite qui c'è anche contenuto un grande insegnamento sulla santità la sacralità e il rispetto dovuto al corpo umano il che apre considerazioni sul tema della cremazione che io ci ho fatto già diverse catechesi che oggi la gente pensa solite sciocchezze c'è uscita due anni fa quando ancora era prefetto il cardinal Muller un'istruzione da parte della santa sede dove la sottoscritta ovviamente da papa francesco come tutti quanti i documenti ufficiali della congregazione della fede l'ultimo uscito stamattina mi pare che è stato pubblicato quello di Luis Ladaria appena uscito bellissimo che parla dell'importanza della chiesa e dell'appartenenza esplicita la chiesa è la professione del nome di Cristo per avere la salvezza fermo ovviamente il rispetto e il dialogo con tutte quante le religioni ma senza che questo determini mai una confusione insomma o un'alterazione di ciò che noi sappiamo essere il dato rivelato e che non possiamo certamente pur nel rispetto di tutte le coscienze rimangiarcelo in quel documento si era scritto molto chiaramente che la chiesa non ha mai approvato la cremazione mai tanto meno la consigliata tanto meno la raccomandata ma i cristiani si sono inventati i cimiteri perché perché sapevano anche senza il dono della divina volontà e anche sapendo che i corpi sarebbero un pochino corrotti che sorella morte era un passaggio in attesa della risurrezione e che il corpo di un figlio di Dio è un corpo degnissimo perché quel corpo in vita è stato animato non solo dall'anima ma l'anima è stata santificata dalla grazia quel corpo si è fatto alla comunione noi durante i funerali i corpi li incensiamo non è che quando la chiesa fa un rito io vorrei tanto insomma che si riflettesse un po' la nobile semplicità del rito romano che è molto semplice molto semplificato anche la nuova liturgia è semplificata ma conserva comunque nella sua essenzialità un altissimo valore anche come dire catechetico e formativo cioè il sacerdote al termine del funerale prende l'incenso e incensa la barra non così perché deve fare facciamo una cosa carina buttiamo un po' di incenso qua perché perché è più bello fa atmosfera così le persone che stanno tanto tristi se consuonano un po' non è questo il motivo quello è un gesto un po' importantissimo cioè questo corpo che io consegno alla terra è sacro l'incenso simboleggia la presenza della divinità perché questo è stato un corpo abitato dalla grazia e si è morto in grazia come speriamo lo consegniamo alla terra in attesa della risurrezione perché c'è già dentro di sé il principio della risurrezione che è la grazia santificante capite quindi indirettamente qui c'è anche una bellissima catechesi sulla vera sacralità santità e rispetto che è dovuta al nostro corpo che deve essere ben trattato cioè la salute per noi cristiani deve essere custodita più tanto una serie di comportamenti balordi adesso ne dico ne dico qualcuno adesso non voglio non voglio fare la solita catechesi come dire parenetica morale sui peccati no però una persona che diventa obesa per esempio perché mangia in maniera sprocedata non è che pecca fa soltanto il peccaduccio di gola d'accordo reiterato perché a lunga andata questa cosa può mettere pentaglio la salute non è peccaduccio di gola cioè tu il corpo lo devi mantenere in buona salute il più a lungo possibile perché col corpo su questa terra devi servire il nostro signore e hai il dovere di per quanto possibile senza esagerare conservarlo bene i comportamenti cioè l'abuso dell'alcol le sigarette d'accordo cioè lo stato fa la campagna contro contro le sigarette ci mette i teschi sui pacchetti le sigarette però tanto li vende perché c'è un sacco di soldi anziché togliere dal commercio ma noi figli di Dio diciamo sempre stati attenti perché chi fuma mette comunque a repentaglio la propria salute cioè noi dobbiamo chiederci davanti a Dio ma questa cosa qua la posso fare a cuore leggero cioè certo non è detto che uno che fuma la morte dei cancri ai polmoni ma se uno si informa bene e vede tutte quante le conseguenze negative di sto vizio qui un pochino in crisi ce va io penso che io insomma sono stato un ex da giovane fumatore non è che sto più tanto tranquillo adesso non so se lo rifarei così a cuore leggero con la coscienza che ho adesso perché? perché la salute è un bene prezioso è un bene indisponibile cioè io devo rimanere qui sul pianeta Terra servendo il Signore contribuendo per quanto possa all'avvento del suo regno facendo il mio servizio dei sacerdote cercando di fare del bene chi lo decide quanto tempo rimango qua lo decide domine Dio è vero che noi non abbiamo il potere di allungare un ora solo la nostra vita come dice Gesù nel nostro Vangelo però abbiamo il potere di accorciarla di suicidarci questo sì di suicidarci sia buttandoci al fiume sia guidando come mai per esempio la guida come dire spericolata è peccato non soltanto perché si viola il codice della strada ma perché tu metti a repentaglio la tua vita cioè tutta una serie di cose perché oggi il mondo di oggi capite passa dall'idolatria del corpo che va iper curato semplicemente perché deve essere uno strumento di piacere diciamoci semplicemente la verità come sta perché se tu sei bello atletico in forma e sei bello attraente sicuramente avrai di che poter soddisfare certi desideri non proprio tra i più elevati che esistono sul pianeta Terra e se invece sei brutto e racchio questo qua non soddisfa nessuno insomma ecco diciamo proprio siccome oggi sembra che questo sia il massimo che si possa concepire c'è questa forma di dorativa del corpo però poi c'è questo estremo contrario ci sono queste forme di infierimento verso il corpo la sua dignità il dovere che abbiamo di conservare in salute in salute che sono la puntata in termini e anche su questo io penso che il cristianesimo da un lato e la vita nella divina volontà dall'altro ha molto da dire e da aiutare anche l'uomo contemporaneo a ritrovare un rapporto con il proprio corpo bello e conforme alla volontà di Dio ecco chiusa questa lunga parentesi che non volevo aprirla però ormai l'abbiamo aperta e adesso la chiudiamo allora prosegue Gesù la lettura onde credi tu che sia più un miracolo dare la vista ad un povero cieco raddrizzare uno zoppo sarare un infermo oppure tenere un mezzo preservativo che l'occhio non perde mai la sua vista che si cammina sempre dritto e che si stia sempre sano credi che sia più il miracolo preservativo che il miracolo dopo successa la sventura mi devo rifermare qui abbiamo di nuovo un'analogia impressionante tra il regno della divina volontà e ciò che non è e la madonna e tutto il resto quando fu definita l'immacolata concezione che cos'è l'immacolata concezione e qual è la differenza che c'è tra la madonna e noi la madonna non è una dea uno e non è una creatura questo per esempio indusse in errore sant'ommaso d'aquino no sant'ommaso d'aquino non credeva nell'immacolata concezione per carità nessuno pensi mai a sant'ommaso d'aquino è il più grande santo di tutti i tempi ma sant'ommaso d'aquino faceva questo discorso attenzione gesù cristo è il salvatore universale di tutti di tutta l'umanità non ci può essere nessun membro della razza umana che sfugga alla necessità di essere salvato da cristo e questo è vero perché la madonna è stata salvata non è una creatura come dire venuta così no no non lo è e chi lo dice lo dice la madonna stessa mi ricordo il mio esame di mariologia professor de fiores come dire rimandava la gente perché dice la madonna è stata salvata oppure no allora sapete gli alunni devoti dicevano no 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 la madonna non è stata salvata no ma tu l'hai mai recitato il magnificato non dici manco i vespri cosa dice la madonna del magnificat l'anima mia magnifica il signore il mio spirito esulta in dio cosa mio 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 salvatore allora la madonna è stata salvata e allora sant'ommaso siccome non era arrivato alla preservazione perché la madonna è stata salvata come si dice tecnicamente redenzione preservativa cioè mentre noi siamo salvati in questo modo siamo caduti come appunto chi è chi è zoppo e viene sanato io sono caduto e la grazia di dio mi rialza la madonna è stata salvata diversamente cioè gesù l'ha presa per mano perché non cadesse ma se gesù non la prendeva per mano sarebbe caduta capite allora siccome sant'ommaso da qui non c'era arrivato a questo qui con tutta la sua intelligenza dio gli ha illuminato alcuni aspetti in maniera fenomenale cioè quello che sant'ommaso da qui non ha visto sui sacramenti della chiesa cioè a mio avviso è insuperato e a mio modestissimo avviso personalissimo insuperabile cioè perché andare più 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 in là di quello che lui è riuscito ad arrivare è veramente difficile però come vedete la divina volontà distribuito i doni per esempio la retenzione preservativa c'è arrivata la scuola san francescana c'è arrivato ad un scoto non c'è arrivato santo ammaso ecco allora però che cosa sta dicendo qui Gesù come la madonna fu immacolata e quindi per la sua immacolatezza poi è diventata grazie al concorso del suo libero arbitrio immune da ogni peccato perché lei è stata salvata in maniera preservativa e si è conservata intatta per tutta la vita mantenendo il dono della divina volontà dice così chi ci avrà il dono della divina volontà avrà quest'alimento preservativo cioè sarà protetto dal male quindi non sarà possibile che cada in certi mari è tanta roba questa qui solo che mentre l'immacolata concezione fu un dono gratuito che il signore fece alla madonna certamente in vista della redenzione e tutte le cose che la chiesa ci insegna quindi una condizione iniziale per noi non sarà mai così cioè per noi questo alimento preservativo come dire ci sarà un momento per noi sto supponendo che chi lo sa se io ci entrerò in questo mondo insomma io lo spero insomma per chi c'era la sorte di poterci entrare ci sarà un momento in cui comincia questo stato cioè di fusione col Fiat Supremo vera che come stiamo cercando di capire non è semplicemente un dono gratuito di Dio non lo è questo è un cammino lo stiamo vedendo che richiede un grandissimo nostro impegno l'ho detto nelle puntate precedenti d'accordo cioè tu entrerai in questo mondo tanto quanto ti impegni ti sforzi ci credi e ci lavori d'accordo potrai arrivare fino a un certo punto e c'è molto da camminare per arrivarci e poi spera che il signore ci metta il resto per farti centrare del tutto ma fino a là ci devi arrivare ci sono dei passi degli iscritti dove Gesù dice proprio chiaramente cioè che bisogna disporsi a questa cosa qui che bisogna crederci che bisogna fare tutto il necessario e il possibile allora ma nel momento in cui questo accadrà e quindi come dire entra nella tua anima questo mezzo preservativo questo alimento preservativo tu la malattia non te le prendi non te le prendi l'orribile corruzione post mortem non te la prendi e forse te va pure meglio d'accordo abbiamo visto le volte scorse il diavolo ci può pure provare a avvicinarsi ma come si avvicina così se mette la coda tra le gambe se ne va non può competere d'accordo non può vincere non può capite Gesù è stato tentato dal diavolo nel deserto certamente gli ha permesso di tentarlo e che fine ha fatto il diavolo se ne ha andato con la coda tra le gambe e non soltanto nel deserto per tutta la sua esistenza ci ha provato a tentare la madonna ma sicuramente sì d'accordo ma come ci provava e faceva capolino così se la squagliavo con la coda levata a gambe perché non c'era nessuna possibilità cioè la potenza del fiat supremo la potenza della volontà divina cioè qualche cosa di immenso figlioli noi non riusciamo a concepirla cioè possiamo staffare catechesi o catechesi possiamo sentire anche il modo con cui Gesù ne parla come lui se lo spiega possiamo in qualche modo rappresentarci rapprovarci ma io non penso sinceramente ve lo dico al cuore in mano lo dico al cuore in mano che siamo in grado in questo mondo di farci una rappresentazione adeguata di cosa sia la divina volontà e della sua immensa potenza e grandezza capite per cui sogniamo speriamo desideriamo sforziamo facciamo tutto quello che ci pare ecco per quanto possibile prendiamo coscienza e vediamo se come quanto ci crediamo ecco quindi come la chiesa insegna che la madonna fu redenta in modo più eccellente e più sublime e per questo fu posta in uno stato eccellente e più sublime rispetto all'altra alla massa delle persone e per questo la santità della madonna da sola vale più di tutta quella di tutti quanti membri della chiesa celeste e terrestre cioè angeli e santi messi insieme così l'alimento preservativo il regno della divina volontà abbiamo visto già visto tante volte supera tutte le santità messe insieme e proietta in un grado ancora più eccellente e consente il godimento di doni simili non del tutto uguali ma molto simili a quelli che l'uomo aveva prima di perdere il legame con la divina volontà con il peccato originale adesso proseguo la lettura ecco la gran diversità del regno della redenzione e del regno del fiat supremo questo dobbiamo comprenderlo la grande diversità è del regno della redenzione e del regno del fiat supremo noi che ha un po' di tempo che ascoltiamo queste catechesi dove sto cercando di dare una lettura sistematica spiegata ormai sappiamo che questi due termini sono sinonimi regno della redenzione uguale il fiat redimente regno del fiat supremo uguale il fiat santificante in formule fiat michi il regno della redenzione fiat voluntas tua sicut in cera e in terra il regno scusate il fiat santificante o regno del fiat supremo allora nel primo regno della redenzione fu miracolo per i poveri sventurati come lo è tuttora che giacciono chi non ha sventura e chi non ha altra quindi siamo tutti quanti disperati siamo tutti quanti sotto un treno dicono a Roma siamo tutti quanti messi malamente e abbiamo bisogno di essere messi in piedi la salvezza oggi l'uomo non è più cosciente della salvezza il regno della redenzione è l'offerta della salvezza agli uomini ma se tu una persona la devi salvare vuol dire che quella sta messa male d'accordo sta rovinata e l'uomo di oggi pensa di essere esente dal bisogno di salvezza quando in realtà forse nessuno quanto l'uomo di oggi ha bisogno di essere salvato chiusa parentesi riprendo sempre la lettura il primo fu un miracolo per i poveri sventurati come lo è tuttora che giacciono chi non ha sventura e chi non ha tre perciò io ne diedi ad esempio anche all'esterno di dare tante diverse guarigioni che erano simbolo delle guarigioni che io davo alle anime e che facilmente ritornano alle loro infermità particolare io l'ho detto tante volte durante le Omedie specialmente quando spiego i Vangeli dove Gesù fa i miracoli le guarigioni dei corpi questo era un tema costante soprattutto della lettura spirituale allegorica dei testi biblici dei padri della chiesa la guarigione di un corpo è sempre simbolo della guarigione di una malattia dell'anima cioè gli occhi non ci vedono e c'è l'io cieco e l'anima è cieca d'accordo uno è sordo e c'è l'anima testarda che non ascolta nessuno eccetera eccetera no? quindi ne dite l'esempio anche all'esterno di dare tante diverse guarigioni che erano simbolo delle guarigioni che io davo alle anime e che facilmente ritornano alle loro infermità facilmente capite? l'uomo oggi si ammala gli avia una polmonite gli avia gli antibiotici guarisce ma poi al prossimo inverno gli avia l'influenza e poi all'inverno seguente ancora gli avia la bronchite e poi gli viene l'artrosi e poi gli viene questo e poi cioè capite? non diamo di come dire di piccole, medie o grandi infermità in piccole, medie e grandi infermità per questa condizione diciamo così legata alla precarietà alla miseria alla fragilità della vita terrena e simile cosa avviene nella nostra anima capite? le anime sono molto molto incostanti generalmente camminano bene per un certo periodo poi si stancano ricominciano ricadono nei peccati poi si vanno a confessare poi ci riprovano poi rifanno un macello poi cadono nella dievidezza poi smettono di pregare poi sono distratte da tante altre cose generalmente diciamo così la situazione media sto parlando delle anime tra virgolette chiamiamole buone è questa d'accordo? perché è segnata da questo stato diciamo così di miseria la chiesa questo ce l'ha sempre ce l'ha sempre ricordato sentite quante volte il papa lo ricorda dicendo ragazzi qui noi siamo peccatori peccatori non significa che c'è questo stato come dire di miseria da cui se ne esce solo con grandissima fatica e non sempre se ne esce perfettamente bene sempre comunque in condizione di precarietà perché nessuno può stare sicuro di stare né in grazia di Dio e né di poter perseverare nel bene in cui si trova queste sono cose che la chiesa ha insegnato autorevolmente nel concilio di Trento nessuno può essere sicuro di stare in grazia di Dio e il dono della perseveranza è un dono divino nessuno può essere certo che persevererà nel bene nella fede nella santità fino alla fine deve implorare questa grazia dal Signore perché la nostra condizione misera precaria non ci consente di fare nessun affidamento su noi stessi e sulle nostre forze questo non è dimenticarlo mai questo qui allora quindi nel primo l'arrivo della redenzione quindi io davo alle anime tutte queste cose e questi rimedi continui ai loro mali del corpo e dell'anima ma il secondo dice Gesù sarà un miracolo preservativo ci siamo familiarizzati con questo termine no? perché? perché la mia volontà possiede la miracolosa potenza che chiunque attenzione a queste parole eh si fa dominare da essa non sarà soggetto a nessun male il secondo sarà miracolo preservativo perché la mia volontà possiede la miracolosa potenza che chiunque si fa dominare da essa non sarà soggetto a nessun male attenzione figlioli miei cari però qui è dominare o in latino dominus significa signore chi ha studiato il diritto romano sa bene che quando a Roma si parlava del dominio quiritario te venivano il dominio quiritario è un dominio assoluto quella cosa appartiene al proprietario che ne la tocca a nessuno quindi cioè non siamo faciloni cioè perché questa cosa possa essere è necessario che la volontà divina ci domini attenzione il dominio della divina volontà non è il dominio di un tiranno che tu glielo dai in questo grado 100% 100% cioè tu neanche un pensiero un desiderio volontariamente a secondi se c'ha il minimo dubbio che non sia divina volontà capite queste sono cose grosse però per arrivare a queste cose grosse sono richieste cose grosse da parte dell'anima non è un giochino d'accordo ripeto tante volte ho detto faccio l'atto preventivo la mattina abbiamo finito no quella è una delle tante cose necessarie quindi chi si fa dominare da essa attenzione chi si fa dominare da essa perché la divina volontà è offerta a nostra disposizione è come tu dicesse vuoi tu vivere hai visto che belli quei salmi che dico vuoi tu vivere una vita felice vuoi tu vivere queste cose vuoi sentirti in perfetta comunione con Dio vuoi sentirti protetto e difeso in tutte le cose vuoi sentirti non vulnerabile dal male fisico dalle tentazioni del demonio dalla possibilità del peccato allora aprimi il cuore e dammi dominio al 100% non semplicemente dicendo vieni di mia volontà a dominarmi al 100% certo questo bisogna dirlo d'accordo certamente tutto parte da un atto volontario ma poi bisogna fare che questo sia reale capito perché in ogni circostanza in cui tu vuoi fare anche minimamente la volontà tua già stiamo fuori già c'è una piccola uscita dalla divina volontà e già questo va già in crisi è così allora il secondo sarà miracolo preservativo perché la mia volontà possiede la miracolosa potenza che chiunque si fa dominare da essa non sarà soggetta a nessun male quindi la mia volontà non avrà più bisogno di fare miracoli nessun bisogno di fare miracoli perché i suoi figli li conserverà sempre sani santi o e belli e belli addio i lifting addio gli estetisti e addio i chirurghi estetici e addio le palestre e le diete e tutte queste cose qui permettetemi di fare qualche battutina insomma però adesso a prescindere la battutina li conserverà sempre sani santi e belli attenzione in che senso belli belli di quella bellezza che è uscita le nostre mani i creatrici nel creare la creatura ricordate sempre una cosa migliori miei cari questa è una mia personale convinzione la bellezza di una persona a mio modestissimo parere traspare dagli occhi lo dice anche Gesù nel Vangelo l'occhio la lucerna dell'anima è l'occhio si dice anche nel proverbio popolare che gli occhi sono lo specchio dell'anima è chiaro che se noi abbiamo una conformazione fisica che non è proprio perfetta con dei difetti congeniti io suggerirei di non intendere in maniera un po' puerile e grossolana queste parole di Gesù non è che se tu hai le orecchie a sventola mi porto perdonatemi un attimo le cose se gli entri arrivati alla mia volontà si attenziano le orecchie non credo che accada questo qui poi può essere pure però quello che qui dice è comunque vero quando si parla di bellezza si parla di bellezza vera bellezza e dov'è la vera bellezza di una persona la vera bellezza di una persona traspare dalla sua interiorità e l'interiorità si legge traspare dagli occhi dallo sguardo la bellezza di una persona traspare anche per esempio dai modi cioè il tratto la delicatezza la calma la pacatezza il sorriso è un insieme di fattori che non sono dipendenti semplicemente dalla mera materialità di un organo cioè se uno c'è il naso camuso c'è il nasone grande che è camuso è quello che ci può fare d'accordo sicuramente a mio mostissimo parere nella risurrezione della carne questo è dottrina comune della chiesa non è un dogma ma i difetti fisici scomparitanno d'accordo ecco così come faccio una battuta Dio mi perdoni se io entro nel regno da dire volontà credo che mi rirescono i capelli insomma quindi li abbiamo salutati insomma e non c'è problema non c'è nessuna intenzione di farmi tra pianti oddemente me le parrucche quindi però però rimane vero cioè il senso profondo no di considerare sempre sane nel senso che cioè le infermità fisiche possiamo sperare che stiano alla larga dai figli di rinvolere la santità la santità la possiamo sperare sicuro al cento per cento la bellezza è la bellezza diciamo così della persona globalmente intesa d'accordo non in tutti quanti singoli particolari immaginate uno che comincia allora non mi deve ricrescere ecco capite ho fatto qualche battuta prima perché io penso che anche nostro signore non si dispiace insomma quando anche si fa una si dice una facezia ecco scherzosa non irriverente ecco ma che da un lato ci fa innamorare un pochino di più di certe cose dall'altro ne stempera la possibilità di interpretazioni grossolane no ecco però questo è vero questo qui degni di quella bellezza che uscita alle nostre mani credicino a creare la creatura cioè noi dobbiamo per esempio pensare l'umanità di Gesù e della Madonna era stupenda cioè se una persona vedesse Gesù e vedesse la Madonna anche li vedesse come dire non trasparenti la gloria che portano dentro quindi come tutti i corpi qualificati hanno uno splendore una bellezza che se si mostrano così come sono è chiaro che ti abbaglia e ti e ti lascia veramente sconvolta perché sono corpi dei ficati ma anche avete incontrato su pianeta Terra quindi così come erano quando erano viatori entrambi ma erano bellissimi d'accordo ed erano bellissimi anche in tutti i minimi particolari io sono sicurissimo di questo qui sicurissimo cioè ma i minimi particolari cioè il taglio degli occhi le sopracciglia le ciglia le orecchie il naso la bocca le labbra i capelli le mani le unghie i piedi le spalle le braccia le gambe tutto era tutto perfetto bellissimo d'accordo stupendo perfettamente equilibrato e questo non perché uno c'è il culto del corpo d'accordo perché o i discorsi grossolani ma perché se Gesù fosse brutto ci sarebbe qualche problema no ci sarebbe nessun problema è impossibile che lo sia perché quello che esce da Dio è qualcosa di meraviglioso di bellissimo di stupendo cioè anche le nostre infermità fisiche ci portiamo dietro le imperfezioni anche stupidaggini come per esempio i nei per dire come dire la loro radice remota l'abbiamo già visto è la presenza del male morale nel mondo prodotto dal peccato dell'uomo altrimenti non ci starebbero queste cose capite perché da Dio non esce niente di minimamente macchiato cioè Dio a perfezione assoluta quindi se una cosa conserva la perfetta unione con lui non può essere nient'altro che perfetta bellissima santissima e sanissima io di questo non sono assolutamente convinto ma questo segue direttamente la dottrina di Santa Madre Chiesa Cattolica non sono opinioni miei personali ogni tanto come dicono cose miei personali lo dico segue d'accordo segue la rivelazione allora concludo qui siamo in conclusione ci metterei punto però lo riprendiamo dalla prossima volta ora ci metto una tacchia che siamo arrivati qui sentite il regno del Fiat Divino non commento leggo soltanto e poi chiudiamo farà il gran miracolo di sbandire tutti i mali tutte le miserie tutti i timori perché essa non farà il miracolo a tempo e circostanze ma si terrà i suoi figli del suo regno sentite che roba con un atto di miracolo continuato per preservarli da qualunque male e farli distinguere come figli del regno suo e questo nelle anime ma anche nel corpo e ci saranno molte modifiche perché è sempre la colpa l'alimento di tutti i mali tolta la colpa mancherà l'alimento al male molto più che volontà mia e peccato non possono esistere insieme quindi anche la natura umana avrà i suoi benefici e effetti io mi fermo figlioli miei cari e riprendiamo dal commento a questa frase la prossima volta però penso che oggi ne abbiamo abbastanza di più penso che ho finito questo scritto dovremmo anche mettere punto alle catechesi perché con quello che abbiamo sentito ne abbiamo abbastanza almeno per quanto mi riguarda questo torno a mio parere personale con quello che si sente in questo scritto davvero ce n'è più che abbastanza appuntamento per chi vuole alla prossima settimana con la mia benedizione ave maria grazie a tutti Grazie a tutti